Musica Insieme a mia sorella siamo i titolari della fornace Terracotte Poggi Ugo e abbiamo questa attività di famiglia ricevuta in eredità dal nostro bisnonno che iniziò nel 1919 questa tradizione Mi sento, mi reputo un'artigiana della terracotta e ho fatto l'Accademia di Belle Arti di Firenze, ho fatto la sezione scultura perché mi poteva essere utile per questo mestiere Produciamo articoli in terracotta, tutti rigorosamente fatti a mano con tecniche antichissime, tradizionali Musica Una delle tecniche principali della nostra lavorazione è della realizzazione di alcuni articoli, alcuni vasi molto grandi e molto particolari che vengono realizzati senza l'ausilio di nessun tipo di forma Musica Sono stata fortunata perché mi piace tantissimo e l'artigianato è stupendo e proprio questo settore Musica 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 Musica